La curva dove si porta la penola del centro in alto A Veszterce bányai versenyen kívül csak magyar versenyeken indult szabadtérem És akkor ilyen 5. kísérlete La curva-sijata Elkozzal Elkozzal Qui scampo è il 6. ultimo ugrosso. Non è c'è il 6 mestre, questo è il 5 ottimo ugrosso. La stessa Diana è la finita, è la scampo di fare un'esercizio. Grazie a tutti i giorni.